Sei arrivato qui a Corneliano come il sosio di Cristiano Ronaldo, quindi una responsabilità doppia. Intanto come nasce questa, a parte la somiglianza? Ti chiedo, Ronaldo può essere uno dei tuoi riferimenti? Sì, sicuramente è un mio riferimento fin da quando ero bambino e quindi diciamo che essere paragonato a lui per l'aspetto estetico comunque mi fa molto piacere. Detto ciò, comunque non sento la pressione per questa cosa, anche se spesso mi fanno battute o comunque scherzano su questa cosa. Sono qui per fare bene e sono contentissimo di fare parte di questa squadra anche perché dopo alcune richieste è stata la prima squadra che ho preso in considerazione perché sapevo che la società fosse molto organizzata e appunto avessi molti obiettivi, quindi sono molto contento. Non te la giochi per la Champions, te la giochi comunque per una stagione, diciamo, se non da vertice comunque per poi avere delle belle soddisfazioni. Sì, diciamo che quest'anno per me il campionato di eccellenza di questo giro è la mia Champions League, quindi spero di fare il meglio possibile con i miei compagni e di conquistare almeno i playoff e poi appunto cercare di arrivare nella posizione più alta della classifica. Con i miei compagni mi trovo molto bene, quindi vedo che il gruppo è molto affiatato e quindi penso che questa Champions League potremmo affrontarla al meglio. Scusa, dovessi segnare? Dovessi segnare facciamo tutti quanti in curva un bel SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Grazie.